Il V1 è l'area che abbiamo inaugurato ieri, poi c'è la disinfezione che dovrebbe diventare questa grande piazza verde, poi bisognerebbe passare oltre la strada e sul retro delle attuali case dell'ex pizzeria La Maddalena per intendersi, ci sono degli edifici faticenti sempre in gestione Aterly, il cammino verde, l'anello verde dovrebbe continuare poi nel giardino pubblico e dal giardino pubblico sul crinale verso l'ipodromo, continuare sulla bocciofila, c'è un'area di sgambamento cani molto domaccia, molto casalinga, poi dovremmo continuare questo anello verde sui orti urbani, passare verso la scuola laghi, molto interessante, Andiamo fino alla Villa Sartorio, valorizzazione del giardino di Villa Sartorio, esso è un semplicissimo collegamento che costa poco tra Villa Sartorio e pista ciclabile Cotur, che darebbe a tutti i gitanti sulla pista ciclabile, darebbe un punto di ristoro e una rivalorizzazione, ed ecco che con la pista ciclabile torniamo di nuovo al Burlo e di nuovo in Via Marenzi. Ecco, sarebbe una cosa fatta con poche risorse. A proposito di risorse, vorrei dire un'ultima cosa. Io spero che la parola del sindaco, se se vuoi, se poi, quando siamo andati in delegazione, diventi qualche po' di euro, basta poco, 20.000 euro, per fare la progettazione partecipata per questa cosa, perché solo se facciamo partecipare, lo disse il presidente dell'Ater, solo se facciamo la progettazione partecipata non ci sarà o sarà diminuito il vandalismo di questa struttura e di tutte le altre strutture, per cui con poco si potrebbe iniziare quest'anno. C'è qualcuno che dice aspettiamo, approfondiamo, ma aspettiamo cosa? di perdere l'ambra. di perdere l'ambra.